Siamo qui con Natale Borra, Head of Distribution Italia di Fidelity International, al quale vogliamo chiedere quali sono un pochino le prospettive per questo 2020 sui mercati finanziari. Sì, grazie innanzitutto. Un 2020 che chiaramente inizia con una fase di volatilità innescata dal tema del coronavirus. Noi comunque come Fidelity continuiamo ad avere una visione costruttiva sul mercato, perché la congiuntura macroeconomica rimane comunque favorevole ad una certa esposizione, e voglio dire ad asset anche di rischio all'interno dei portafogli dei nostri clienti, partendo dal presupposto che le banche centrali sono tornate a dare liquidità al mercato in modo massiccio, la crescita a livello globale rimane comunque in linea con il potenziale. È chiaro che avremo un primo quarter più difficile del previsto a causa dell'impatto del coronavirus, ma comunque, come dicevo, le condizioni macroeconomiche fanno sì che nel medio periodo ci possano essere delle opportunità di investimento. Ecco, in merito a questa situazione, quali prodotti gli investitori dovrebbero più focalizzarsi per quanto riguarda Fidelity International? Per quanto ci riguarda, soprattutto in una fase di mercato matura e difficile da interpretare come quella che stiamo vivendo, bisogna innanzitutto ragionare per obiettivi del cliente. Noi come Fidelity da sempre abbiamo tre obiettivi chiari in testa, sono crescita, reddita e stabilità, sono tre obiettivi che ogni cliente ha a prescindere dal profilo di rischio e dal contesto di mercato. Detto questo, chiaramente per ciascuno di questi obiettivi abbiamo delle strategie dedicate. Per quanto riguarda il tema della stabilità, quanto mai delicato evidentemente in questa fase di mercato, l'idea è quale trovare il giusto equilibrio tra opportunità di rendimento e qualità e rischio che ti metti in portafoglio, per cui abbiamo dei portafogli globali con duration corta e rating medium investment grade. Per quanto riguarda il tema dell'income, cedola che serve da stabilizzatore psicologico, l'idea è sempre quella di andare su portafogli globali molto diversificati e gestiti in modo flessibile ed attivo, con la possibilità magari per ridurre il rischio in questo 2020 di concentrarsi su portafogli con un focus europeo, in modo da non avere la componente dei paesi emergenti e la componente del cambio che comunque porta a volatilità. E da ultimo i temi della crescita, quindi le componenti tipicamente azionari, dove l'idea è quella di avere uno gioccolo duro dato da strategie ad alto dividendo e bassa volatilità sulle quali poi andare ad innestare dei temi di più lungo periodo attraverso la nostra gamma di tematici. In generale l'idea è quella di costruire questo portafoglio non in un'unica soluzione, ma attraverso la pianificazione e la diversificazione del tempo, attraverso dei piani d'accumulo.